Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Minecraft Story Mode per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati qua Nello scorso episodio abbiamo finalmente trovato la stanza segreta che dovrebbe contenere in teoria l'Eversource Oggi direi di andare a vedere che cosa conteneva quella stanza Visto che lo scorso episodio l'ho interrotto proprio mentre praticamente stavamo scendendo in profondità Ok perfetto ragazzi l'ultima volta ci eravamo lasciati qua Perfetto ecco i carrelli Fantastico Adesso saliremo a bordo come la volta scorsa Eversource stiamo arrivando Perfetto non c'entra nulla però volevo avvertirvi che l'episodio di Super Mario Maker Che in teoria avrei dovuto pubblicarvi questa settimana ragazzi Ve lo pubblicherò la prossima settimana perché purtroppo non ho avuto tempo per registrarlo Ok fine parentesi Adesso torniamo a concentrarci su Minecraft Perfetto siamo arrivati Oh è pieno di casse E hanno tutte un'etichetta Creeper, zombie, pecore, pigman Curioso Ma cosa significa Proviamo a aprirne una ragazzi Un uovo L'etichetta dice pecore non uova Ok proviamo a lanciarla Magari apparirà una pecora vediamo Vai Jesse Si è apparsa una pecora Come mai? E' un mostro? Non male E' soffice Ok le uova contengono creature e sono di diversi colori L'Eversource produce uova Ok E' tutto esaltato intanto Ivor perché siamo molto vicini all'Eversource Niente procediamo ragazzi In questa specie di magazzino Guardate quante casse Maiali, pecore Slime Ghast, zombie C'è qualcosa là dietro Che cos'è? Sembrava un maialino Ah no E' una gallina con una corona Che spettacolo ragazzi Incredibile E' un pollo L'Eversource è un pollo Eh? E' così semplice Aspetta, 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 aspetta Aspetta Quello è l'Eversource? Ah, quindi sapete cosa fa? Produce uova E dalle uova possono nascere vari oggetti Ah, vuole andarsene via Prendendo, portandoselo via Ok L'intera città dipende praticamente da questo pollo Ok, però rapendolo Saremo praticamente liberi dal re Ok, prendiamo il pollo, dai Prendiamolo Veramente? Attenzione Che caspita Che caspita è la regina? Mazza se è forte sta tipa Lo sapevo Lo sapete Che eravate qua Per rubarmi La roba Intanto passa la pecora nello sfondo Eh, veramente lo stavo semplicemente tenendo Perché stava scappando via Non volevamo prenderlo Te l'ho detto Sono qui per rubare l'Eversource Veramente sei tool Il ragazzo cattivo, eh E pensi che creda a un sacco di bugie Dette da una banda di criminali Aiden mi ha praticamente avvertito Che sarebbero arrivati in città Delle persone che avrebbero tentato di rubare l'Eversource Oh no 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 Ecco Vuole rubare il pollo E vuole lanciarci addosso un Creeper Adesso Mi credi? Qualcuno ha ordinato uova? Attenzione L'abbiamo evitato per un pelo No, no Il Creeper Uccidilo Ah, la regina Dobbiamo salvarla No, 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 no La pecore è caduta giù Ok, ce l'ho Salvala la regina Allora, salvala Per un pelo Per un pelo, ragazzi Per un pelo Grazie, grazie Lucas Non ci credo Non ci credo No Ha buttato giù pure noi E mo' come atterriamo, ragazzi? Speriamo di atterrare nell'acqua, ragazzi Ok, si è stufata È colpa tua Ehm No, senti Non Lasciamo perdere adesso La mia intera città è distrutta Ok Dove caspita Stiamo atterrando Wow, guardate che Cascata di lava Non è possibile Jesse? Ok, dobbiamo dirigerci Nell'acqua Dai Dai Dobbiamo andare vicini All'acqua Dobbiamo atterrare nell'acqua Ragazzi Ok, dovremmo farcela Dovremmo farcela Puntiamo l'acqua Speriamo che Lucas Abbia deciso di fare come noi Anche perché altre possibilità Non ce n'è Vai, 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 vai Ok, ce l'abbiamo fatta La pecora Anche lei è atterrata nell'acqua E Lucas? Ah ok, ce l'ha fatta pure lui Ce l'hai fatta anche tu Ok, mi dispiace non averti aiutato Avevo pochi secondi Non sapevo cosa fare Dovevo prendere una decisione in fretta Non ti preoccupare Aiden è più forte Di quanto mi aspettassi Hai fatto bene a salvare Io la chiamo la regina Ragazzi Sta bene? Sembra leggermente confusa Regina? Regina? Tutto ok? Ah, probabilmente non sapeva Che sotto di lei Esistesse un altro mondo Tutto ciò è stato qui sotto Fino adesso Questo cambia tutto Questo cambierà tutto nella vostra città Sì Guarda questo posto Totalmente incontaminato Bello eh Che cosa faccio adesso? Prenditi un minuto Però dobbiamo poi tornare su eh Goditi la vista Respira Ok, tornare su in città Sarà abbastanza faticoso Che caspita è atterrato Uno zombie Oh mamma ragazzi Attenzione Piovono mob Chi che li sta buttando giù? Che cosa sta succedendo lassù? Mi sa che la tua città è in pericolo O c'è qualche problema nella tua città Non posso credere che Aiden sia stato così sciocco Ok, non può lasciare i suoi concittadini Nei guai Dobbiamo aiutarla a tornare su Certo che ti aiuteremo Grazie Jesse Chiamami Isa Oh, perfetto Sta tipo finalmente Ci ha detto il suo nome Ok, vediamo che cosa possiamo fare Potrebbe funzionare Non so che cosa Che cosa abbia in mente Jesse Ok, è tempo di costruire qualcosa di veramente Grande Probabilmente la cosa più grande che tu abbia costruito nella tua vita Ah, devono costruire una torre di terra Wow Pensavo a qualcosa di più complicato però Ok Ci sarà da scavare parecchio Vai Jesse Ok, dovrebbe bastare Che cos'è quello? Ma c'è un portale ragazzi C'è un portale L'altra metà del portale? Ah Mi sa che hai ragione Mi sa che hai ragione Ok Mi sa che Possiamo scartare l'idea Della torre di terra Mi sa che Lucas non verrà con noi Perché non si sente al 100% Non dovresti però rimanere da solo Monsters Nightfall Ok Quindi Si preparerà A sopravvivere Quindi Lucas mi sa che ci lascia È leggermente ferito Riposati Grazie per aver provato ad aiutarmi È stato veramente nobile Da parte tua Ragazzi non è un addio Ci vediamo quando tornerete giù Ok lo faremo Va bene Allora Dobbiamo costruire sta torre di terra O usiamo il portale? Abbiamo una città da salvare Sei pronta? E credo di sì Ho da picchiare dei blades Rods Sto apprezzando il tuo aiuto eh E grazie per avermi salvato Salvata Ok Ragazzi Si torna su Vai 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 Veloci come il vento Ce l'abbiamo fatta? Forse sì Vediamo Dai che ce la stiamo facendo Ah Ecco da dove viene fuori quella lava Dalla costruzione di Di Ivor Oh mamma quanti gust Ok Dobbiamo tornare in città Subito Attenzione al gust Attenzione Evitato Ha distrutto il ponte Ok ragazzi siamo tornati in città Che cosa hanno fatto? Oh mamma Oh mamma ragazzi Gente che scappa da tutte le parti Esplosioni Ghast Zombie Scheletri State indietro mostri Qualcuno mi aiuti Vai Jesse Mamma mia Isa Che cattiva Ammazza due spade Che cosa sta succedendo qui? La città è sotto attacco Madame Ovunque Sembra che provengano Ah Dal palazzo reale Dobbiamo fermarli Ok Lei probabilmente Resterà qui a salvare I suoi concittadini Ah ok Ecco sono salvi Milo almeno è salvo Ok Uccidiamo gli scheletri Fantastico Grande Jesse Perfetto Distrutti Quindi abbiamo ritrovato Milo Ammazza lo scheletro sul ragno Ok Confitto si Grande Milo Ammazza ci sa fare con lo spadano Come fai ad essere vivo? Ti ho visto cadere Dalla Dall'isola volante Ascolta Versione veloce Sono atterrato in mezzo all'acqua Praticamente Attenzione un ghast Dobbiamo entrare nel palazzo Grazie amico mio Ok Ok ti coprirò dall'altro lato Fantastico Ok Vi piace? Attenzione ragno Uh Petra Grandissima Jesse sei vivo? Petra Attenta Attenta Ok In fortuna abbiamo evitato il proiettile del ghast Grazie Ivor Mi hai salvato Aiden ha preso il palazzo Ok nessuno può entrare Perché continuano a lanciare uova Jesse prendi una di queste Ehm Pozione dell'invisibilità Grazie Ok Non possono fermarmi se non mi vedono Ok Fantastico Fantastico Preso Haha Non se ne sono accorti Fantastico Ok Vattene Reggie Ah ok Sta cercando di piegare La città al suo volere La città al suo volere Ok Lascialo stare Lascialo stare E' una cosa tra me e te Ti ho visto cadere Sei vivo? E la regina è con te? No Attenzione Dobbiamo salvarlo No È ferito Non un altro passo Ti ho ucciso una volta Lo posso rifare Dammi il pollo Ok morirai di nuovo Mamma mia ragazzi Altro scontro Che cos'è? Oh mamma Una blaze Questa qua è forte Ok Vai Jesse Sconfitta Sì Fantastico Attenzione Aiden Mamma mia Scontro finale Scontro finale Questo dovrebbe essere il mio mondo L'hai rovinato Ascolta Sei impazzito Ok Perché non mi puoi lasciare Stare Ok L'abbiamo disarmato Però probabilmente avrà qualche uova E infatti Un'altra blaze Torna qui Attenzione Dai Jesse Bello ragazzi Bello questo episodio Un po' di azione Finalmente Uh E' vero L'acqua Ha sconfitto La blaze Ok Scontro finale Ragazzi Scontro finale Sembra quasi il re leone Non so perché mi è venuto in mente il re leone Attenzione Scontro finale tra Jesse E Aiden Ok Ti prenderò a calci Provaci 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 Attenzione Attacco finale Mamma mia Che parata Mazza se è cattivo Mazza se è cattivo Bello ragazzi Bello 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 Dai che casca giù Ora tocca a me Mamma mia Aiden Ti faccio il mazzo Attenzione Uh che scontro ragazzi Che scontro Molto molto poetico Ok Disarmato Per la seconda volta E stavolta la spada Mi sa che volerà giù Infatti Aspetta 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 Mi arrendo Mi arrendo Voglio solo parlare Ok Questi qua indietro Tieniteli Tieniteli Non li voglio Non farmi del male Il solito ragazzi Il solito Ah ok Non mi ha attaccato Ce l'hai fatta Ok Dobbiamo andarcene da qui E infatti Mi sa che l'isola Sta crollando Ok Dobbiamo sbrigarci Perché la situazione Sta peggiorando Di minuto in minuto Non puoi lasciarmi qui Dai portiamolo con noi va Non so se è la decisione giusta Non puoi lasciarmi qui Muoviti Vieni con noi Grazie Jesse Grazie Non mi fido di lui però Non mi fido ragazzi Ho paura che Era meglio buttarlo giù Più che altro Almeno per restituirgli Il favore Mamma mia Ragazzi Mamma mia Beh c'è una mega cascata C'è una mega cascata Attenzione Ok Li abbiamo tutti quanti Catturati Attenzione Uh La regina Grande Isa Ok Abbiamo recuperato L'Eversource Jesse Sei qui Ok La situazione Sta peggiorando E non possiamo fermare Tutti quanti i mostri E proteggere La mia gente Ok Più stiamo qui E più Persone moriranno Ok Cerchiamo una via D'uscita Questa potrebbe essere Una via D'uscita La cascata Sei pazzo Ah ok Pensano che non Non esista nulla La sotto C'è una terra Laggiù Non morirete Ok Guardatemi Fate come faccio io Si va Vai 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 Jesse Salta Ok Ragazzi Siamo finiti All'acqua park Ok Fate come me E Ok Vi mostrerò Che credo Nelle parole Di Jesse Perfetto C'è un gust Che vi osserva Ragazzi Mi conviene Seguirci Perfetto Dai 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 Ok Mi sa che qualcuno Finirà Qua dentro Involontariamente Wow Vai di kamikaze Ragazzi Non so se conoscete Lo scivolo Che va giù dritto Ok Piove gente Ragazzi Jesse è atterrato Ok È arrivato il pollo Perfetto Stanno arrivando Tutti quanti Non stavi mentendo C'è una terra Qua sotto Non posso Che ringraziarti Jesse Ci hai salvati Tutti quanti Che cosa faremo Ora Ok Andate a cercare Andate a cercare Della legna Beh Dovete costruire La vostra Prima casa Ragazzi E come posso fare Dovete trovare Un albero E cominciare A prenderlo a pugni Eccoli qua Ragazzi Siete in arresto E non andate Da nessuna parte Lo sapevo Che li avresti fermati Ok Penso che dovranno Pagare per le loro Malefatte Se lo meritano Se lo meritano Aiden ha qualcosa Da dire Jesse Mi dispiace Per aver causato Tutti questi problemi Spero che tu abbia Imparato qualcosa E spero che non succeda Mai più una cosa del genere Sì sì Questo è sicuro Ok Prova a ricominciare Da capo Dopo naturalmente Essere stato in galera E aver pagato Per le tue malefatte Ok Proverò A diventare Uno scrittore Ok Cercherò di non competere Con te Mai più Va bene ragazzi Attenzione Attenzione La regina Ha qualcosa da dire Ok Ora che siete tutti Al sicuro Dobbiamo Organizzarci Per creare Una nuova comunità Ah ok Isa e Milo Adesso Competeranno Per diventare Il nuovo sindaco Della città Ok Ok Lottare Non serviranno Ah no Ok Ho sbagliato scelta Volevo scegliere L'altra cosa Ok Dai Isa sta cercando Di aiutarvi No Più che altro Sta cercando Di mantenere il trono Non capisci La notte Arriverà Presto E Qui sarà pieno Di mostri Ok Dovremmo Ver imparato Dai nostri Errori Quindi Milo Diciamo Che Sta cercando Di convincerli A Scegliere Di non seguire Isa Potete fare Entrambe le cose Ragazzi Eh Potete fare Ciò che volete In una società Organizzata Ok Penso che abbiamo Un bel po' di cose Da imparare Grazie Jesse Ok Non ho capito Ma Credo in ciò Che dici Ok Suppongo Che l'era Di Sky City Sia finita Ti ringraziamo Ancora Per ogni cosa Non sprecate Questa opportunità Diciamo Di lavorare Insieme Non lo faremo Va bene Ragazzi Perfetto Un'altra avventura Dell'ordine Del nuovo ordine Della pietra È terminata Mi mancherà Quel ragazzo Pazzoide Ok Dovremmo prepararci Anche noi Senza un nuovo portale Ragazzi Sarà dura Tornare A casa Non vi preoccupate Dai Troverò Un modo Per tornare A casa Ha trovato Un altro portale E Ivor E non mi ha detto Nulla Ok Non l'ho menzionato Neppure io Va bene Va bene Ragazzi Ecco il pollo Oh Sei qui Scusatela Ok Mi sembra che si stia divertendo Qui intorno Ok Non hanno più bisogno Dell'Eversource Perché Praticamente Hanno tutto ciò Di cui hanno bisogno Qui attorno Eh Beh Potreste viaggiare Ragazzi A questo punto Ci sono parecchie cose Da vedere Una bella idea Ok Magari andrò a esplorare Alcune di quelle Rocce Le chiamiamo Montagne Fantastico E Diciamo che adesso Potremmo chiamarci Semplicemente Isa E la sua migliore amica Ah Le ha tolto Le ha tolto La corona Sarebbe un onore Per me Se tu prendessi Questo Ah ok Perfetto E la corona Della gallina Ah Benedetta L'ha chiamata Fantastico E così se ne va L'Eversource Uh Attenzione Ah Jesse stava pensando A Reuben Ah Semplicemente Stavo pensando A qualcuno Che mi manca molto Vedendo quei maiali Ok Allora Qui sotto C'è un altro portale Ve l'ho detto C'è un altro portale Per tornare a casa Qui sotto E abbiamo anche Gli strumenti Per attivarlo Ok Ivor Non vede l'ora Di mettersi Tutto alle spalle Però sperava Di trovare Un vero tesoro Ok ragazzi Torniamo a casa Non ho capito Cosa diceva Ivor Forse di mettere La corona Su un altro Pollo Per vedere Che cosa succede Vabbè Lasciamo perdere Attiviamo il portale Ok Torniamo da Axel E Olivia E Dove Caspita Siamo finiti In un mondo Pieno di portali Attenzione Una nuova avventura Per il nuovo ordine Della pietra Chi lo sa Uh Attenzione ragazzi Abbiamo terminato Anche questo episodio Di minecraft story mode Vediamo che cosa Ci mostreranno Dopo questa specie Di titoli di coda Ci stanno facendo vedere Le nostre scelte Ah Proprio altri titoli di coda Va bene Ok ragazzi Direi che possiamo Terminare questo episodio Di minecraft story mode Qua Abbiamo completato Anche il quinto Capitolo Fantastico Veramente Fantastico Sono molto contento Di avervelo portato Sul canale Adesso so Che dovrebbero uscire Altri due o tre episodi Se non sbaglio Non appena usciranno Li porterò Sul canale E naturalmente Ve li tradurrò Al volo Come ho fatto Fino adesso Ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su minecraft story mode Alla prossima ragazzi